Via Marco Peregno i lavori sono stati programmati già da un anno, li stiamo mettendo in fila, li stiamo facendo. Quello che ho visto in via Marco Peregno è un sindacalismo deteriore, non si fanno così le cose e soprattutto non si creano così le condizioni per avere consenso. Non si può scrivere senza aver mai parlato col sindaco che il sindaco è un fanfarone che significa ciarlatano, no? In italiano. Non è che mi interessi particolarmente. Non hanno mai chiesto un confronto con lei? Con me no, con me non ci hanno mai parlato. Se uno ci parla una volta e poi gli dico delle cose e poi non le mantengo, mi possono anche dare del ciarlatano. Ma senza averci mai parlato è un'offesa gratuita e le offese gratuite non fanno onore a chi le fa.